Ciao a tutti, c'è il mister Gaspedellini a vostra disposizione, come sempre per una domanda a testa, per l'alzata di mano, domanda preceduta come sempre da nome, cognome e testata. Prego chi vuole iniziare, qui. Mister buonasera, Tomaselli, Corriere della Sera, in questi casi si tira fuori il vecchio adagio di Cruyff, quando non puoi vincere assicurati di non perdere, diciamo che è un pareggio che può andare bene anche in vista del ritorno? Il risultato è un buon risultato, anche in vista del ritorno e indubbiamente uscire da questo campo imbattuti, lo ritengo un risultato molto positivo, perché l'Olympics è dimestrato una squadra forte e credo che per superare il turno avremo bisogno di fare una grande partita a Bergamo. Su questo campo penso abbia perso una volta sola con il PSG e stasera si è capito anche il motivo. Prego. Buonasera Ministro, Alberto Gianbruno, Network. Ci può dare qualche notizia anche su Colasinac? Dovremo vedere domani, i prossimi giorni, così sembra uno stiramento e quindi vedremo di quale entità e se potrà essere recuperato ancora prima del finale di stagione. Prego, avanti, non fate i timidi. Qua. Buonasera Mister, Giorgio Dusi, Bergamo News, Scamaca, 5 gol in 5 gare di eliminazione diretta, ci metto anche quello con lo Sporting in casa, nel girone, che facciamo 6 in 6 partite chiavi in Europa League, in 5 su 7 imbrato il cartellino, anche stasera un altro gol comunque pesantissimo. Un gol pesantissimo, molto bello, per l'esecuzione, per l'azione stessa, avremo bisogno di uno Scamaca al meglio, lui come tutti gli altri attaccanti, per creare i presupposti per superare il turno nella prossima partita. Magari questa sera non era facile, perché loro poi difendevano sicuramente bene e noi magari non siamo riusciti poi a dare continuità in attacco a questa giocata, però a Bergamo dovrebbero essere sicuramente più continui, però lui indubbiamente sta facendo delle cose di grande qualità. Prego. Elisa Cucchi, Bergamo TV, buonasera mister, il pubblico, questo calore, queste 64 mila persone hanno inciso su quella che può essere la prestazione, ci raccontava Deron prima che nel riscaldamento faceva fatica a parlare con i compagni. Beh, questo è uno stadio meraviglioso, veramente molto bello, sia architettonicamente che anche per l'acustica e per quello che trasmette sicuramente la squadra di campo, di casa ha dato una spinta in più, devo dire che noi siamo stati bravi però, anche se abbiamo avuto dei momenti di sofferenza, però non era facile in questo ambiente giocare con questa personalità. Prego. Buonasera mister Matteo Brega, Gazzetta dello Sport, le volevo chiedere, attaccandomi a questo finale della sua risposta, se è più soddisfatto dell'aspetto anche fisico di Stoi o mentale che hanno tenuto in un ambiente così particolare. Tutti e due, ci vuole entrambe le cose, c'è da considerare, noi abbiamo perso anche molto presto con l'Asinac, avevamo già fuori Yen, abbiamo dovuto spostare Deron dietro, aggiustare la difesa e il centro campo, sono stati bravi, perché loro avevano un gran ritmo, delle belle velocità, noi comunque ci siamo attaccati al gioco, alla squadra, alla difesa, abbiamo giocato anche con coraggio, tenendo la squadra sempre molto alta e questo secondo me ha impedito loro di essere più pericolosi di quello che sono state, anche se qualche situazione pericolosa l'abbiamo sicuramente creata. Prego, grazie. Buongiorno, in francese. Buongiorno. On n'a pas eu l'impression d'avoir veramente reconnu votre equipe ce soir, comment vous expliquez un po' la prestazione dei vostri giocatori e è stato sorpreso per l'OM questo giorno? Io conoscevo il Marsiglia, me lo aspettavo così, mi aspettavo questo tipo di squadra, ho visto dare quattro gol al Villareal, che è una signora squadra, ho visto vincere con il Benfica, è una partita difficile ma mettendo in grande difficoltà il Benfica, in Europa e magari in campionato non avrà avuto la stessa continuità, non lo so per questo, però io mi aspettavo questo Marsiglia sicuro. Ultima domanda qui. Buonasera signor Gaspedini, Coso Bartoloni, cronache di spogliatoio, le volevo chiedere quanto c'è secondo lei di bravura dell'OM e quanto di stanchezza dell'Atalanta per questo secondo tempo in cui la squadra ha sofferto un po' di più? Secondo me bisogna considerare l'avversario, bisogna avere rispetto anche dell'avversario, non solo io ho visto tante squadre italiane fare veramente e subire pesantemente molto di più che quello che ha fatto l'Atalanta oggi, quando si viene a giocare su questi campi bisogna avere anche la percezione di quello che sono gli avversari perché sono arrivati fino qui, qual è la loro storia, qual è il loro ambiente e noi abbiamo giocato senza presunzione e questo ci ha aiutato altrimenti sarebbe, se abbiamo avuto quel pizzico di presunzione in più così sarebbe stato difficile. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie a tutti.